Ecco, no no, si state facendo il filmino, eh, di tortelli, si è fatto un programma di cucina. Voglio fare vedere un filmino, non c'è pensato, mi fai vedere un filmino, non c'è pensato a sta cosa, mi fai vedere un filmino, posso dirti una roba, mi fai vedere da alcune partite l'hanno sospita. Mi fai vedere da alcune partite l'hanno sospita, mi fai vedere da un giorno, non c'è pensato da un giorno, non c'è, ora bisogna fare invece di cucina. torzelli io voglio buttare aspetta sì non ho mai aspettato non ti ho aspettato, ti ho chiamato tre volte però lo so, stavo arrivando no, ti ho chiamato a mettere lì a fare cazzate ma va bene qua, tanto lei, guarda la metti a buttare comunque questa è la prima manda questa è la prima manda, ora ci sono cosezze particolari sì, non li buttati fuori non li buttati fuori Nicca vai all'appo, non è che l'appo porti il cane davanti via nella corsa, va vai Nicca, via Nicca, via vieni su, Nicca, dai Nicca è un po' rito da Mirko dai guarda sai che Susanna, assoluta, guarda io bisogna stare dietro qua Mirko fai un po' ti guardo, eh guarda mi fa addio ma guarda c'è la macchina mamma questa ho visto una macchina in giallo di altre bottiglie è morto ha sbattuto ha sbattuto ha sbattuto la macchina ha sbattuto la macchina ma non è morto ma non è morto ma non è morto mi dicevo loro fanno bellissimo ma cosa ma facendo dove ha fatto il mercurio dentro no no che mercurio non è mica il discorso del mercurio ragazzi come i cieli il chemioterapia non è morto è morto ha fatto tanti paio hanno buttato la bottiglia è morto ci vedono un po' ma hanno continuato a buttare le bottiglie ma che fai? nulla vai parla continua e la cosa sta riprendendo? questa è la trasmissione in cina se vi ha fatto la trasmissione fate gli hanno dato il coraggio e ripetendo io mi sono fatti i testi no lo sai anche i chemioterapia l'hanno ritirato perché nella produzione non era stato fatto in maniera di un anno i danni che i controlli sono tanti l'hanno ritirato dal mercato e quindi questo farmaco è un anno che non ci sa ed era un farmaco fondamentale per l'ovaio ha fatto tutto ma guardavo me saba che da solo e in combinazione dava tante possibilità terapeutiche però eppure era un farmaco che era anni solo che nella produzione hanno fatto sta cosa a tavolo e ora lo sai che controlli c'è no ora controllano c'è sicuro che controlli si perché lo sai come è andata si spera si spererete però intanto questo farmaco è un anno che l'hanno ritirato ed era non un farmaco messo da poco sul mercato anni e anni che c'era ed era un farmaco che funzionava benissimo per la mammela ma soprattutto per l'ovaio perché lo potevi combinare anche con dei farmaci nuovi tipo la cabezidina eccetera capito però ho cercato questo problema papà voglio fare i film anche qui ma non vedo no 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 adesso no adesso è una dame di questa magliettina è diventato hai visto ora non è nulla tra un pochino cresce 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 le cose che sono le tappette sono queste rimessare con delle capezze con delle capezze fai il filmino senti si sta andando benino burro? vi vuole? si no senza burro senza burro senza burro con la giraffa addirittura ho un figliorino dammi la uno con la giraffa dammi la uno a chi sei? ti dà un aiuto a domanda mamma mia è un aiuto a mezzo a posto sta attento mi fai male mi fai male mi fai male sta attento babbo esci da lì guarda sta lontano stavolta bravo guarda lì fatti il filmino ecco vai vai non se ne ha aperto neanche uno dai il maestro non so non è che va fuori cosa la io ho sperato di nuovo l'ho messo un attimo là fernanda se no ci troverà i capelli lasciamolo lì per sentire se gli è cotto vieni io lo devo assaggiare lo assaggio io se è un patire così e lo assaggio io se vuole che lo assaggio io no no vadaci i bruciatti io direi le sale vanno bene non c'è ora no no un po' stocchini dentro ma la tortigata non viene è invitata a un compleanno ma me l'aveva detto già dall'altra settimana ora è in camera per andare a un compleanno e ci hanno anche i cani che si sente male vai per ripidare di là di là di là si padre lo sai che non ti ho visto l'altra settimana mi ha lasciato vedere la televisione ti ho perso l'era più bellina di tutte le tele serate non si guarda su internet mi ha dato la possibilità di avere dei cartoni animati quando si intingua di quelle cose chichi cocco guarda come dice lì mamma mia eccoci e poi ieri è andata a musica ci hai fatto da un quarto alle 11 fino a un quarto alle 1 va vai cominci adesso e facciamo un altro passolino intanto si mette una tavola la razzolatina ha tutto completo vai e poi il formaggio vai il formaggio il formaggio il formaggio si vai primo passolio fuori vieni dai piattami il piatto di Mirko vieni allora Mirchino dove lo vuole non te ne vuole dove è stato l'altra cosa dove l'altra cosa sta qui eh per lui così è contenta ma non se ne mette paracolo se non ci mette nulla qui dentro c'è c'è diversa roba devo vedere gli altri si ma non sa bene come dice quello sicuro sì tanto lo sento come un marco massimo non ci sento mai e poi fatemi che sia se si ma così asciutto io non ti mi ho non come Non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete. Bene, ora si farà fidare i bolloni e poi dopo metto tortelle. Portala come si è messo il mio rato. Com'è la giraffa, come cosa, come ti giro giù? Insomma, di che avete parlato? Si è fatto vedere la ricetta. guardava un attimino se fate anche consigli per gli acquisti o va del buono si ma ascolta fate consigli per gli acquisti ma io voglio sapere di che avete parlato alla trasmissione l'altra volta parlava della popizzeria capito invece questa volta di che ha parlato questa volta di che hai parlato però pigliavi bene a suo tempo un milione e mezzo due anche due e mezzo un'altra infornata chiudi no no dimmi di no no che c'è un tortello no 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 dimmi su tu il filmino ecco l'arrivo dietro si filma qua si filma ah si si e qui si riprende su facilità di cucina allora ma come dici non andare a scolire a scolire ma non vuoi farla dai mi piace eh si si è bravo è bravo bravo e con questo ho detto tutto non vedo l'ora di arrivare a tavola o lasciamone anche tu non vedo l'ora di arrivare ma non vedo l'ora di arrivare